ciao buongiorno allora vi leggo questa letterina che mi è arrivata prima allora buongiorno sono la mamma di una bambina che sabato 14 dovrebbe ricevere i sacramenti di cresina e comunione presso la parrocchia di Borgo San Giovanni da tempo alcuni genitori chiedono alle catechiste di spostare il tutto a primavera nella speranza di uscire dal picco di casi covid di questo periodo la risposta è sempre quella facciamo quello che ci viene detto di fare io credo invece che i genitori possano avere voce in capitolo oltre al fatto che sarebbe una celebrazione con solo genitore e madrina padrino non c'è comunque la serenità che serve in occasione del genere per non parlare del fatto che poi si non si potrà festeggiare con i parenti oltre a tutto ciò domenica scorsa all'ultimo è stato disdettato il catechismo per la presenza di bambini quarantena e altri con situazioni da verificare disdette per evitare situazioni a rischio mi è stato detto allora chiedo io se non c'è il caso di evitare un assembramento in un luogo chiuso come la chiesa e posticipare i sacramenti le catechiste continuano a dire vedremo il segretario del vescovo stamattina mi ha detto di non aver ricevuto nessuna segnalazione del parroco la segretaria la segretaria di zaia mi ha chiesto di inviare una mail per spiegare tutto non è una cosa assurda ci chiedono di evitare assembramenti qui ci obbligano a parteciparvi punto di domanda chiederei se possibile di scrivere due righe senza fare il mio nome allora ancora il 2 di novembre ho scritto al vescovo siamo amici amici di facebook il 2 di novembre gli ho mandato un messaggio di una chat di una classe che c'era una bambina positiva gli scrivo questo è un messaggio di una chat eccetera eccetera ci sono positivi tra dipendenti comunali tra dipendenti veritas cooperativi pesca almeno uno scrivevo il 2 di novembre almeno uno è in terapia intensiva e adesso ce n'è molti più di uno in terapia intensiva di chiogioti scrivo al vescovo non sarebbe opportuno tra parentesi è intelligente rimandare le cresime il vescovo gentilmente mi risponde staremo a vedere valuteremo ecco allora allora io credo che non ci sia più nulla da valutare credo che sia caso di rimandare tutto non dico neanche a primavera a data da destinarsi anche perché non è vero che poi non ci sono festeggiamenti perché comunque ci sono persone che anche tra virgolette giustamente comunque tenderanno a riunirsi per festeggiare quello che da fare in pratica ecco quindi credo mi rivolgo pubblicamente al vescovo adriano tessarollo lei è anche collaborato da persone molto intelligenti c'è uno che ha autolaure sappiamo come ne ha pagati i corsi di queste autolaure vi chiedo espressivamente da padre di famiglia io ho tre figli sono molto preoccupato della situazione generale della nostra città di tanti altri amici rimandate queste cresime rimandatele 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 rimandatele